Incontro positivo sul futuro della Lucchese, quello che si è svolto lunedì pomeriggio a Palazzo Orsetti, tre rappresentanti del gruppo che intendono rifondare la gloriosa Pantera, il sindaco Tambellini e l'assessore allo sport Ragghianti. Sul piatto, finalmente una proposta seria e credibile, dar vita ad una società dinamica, agile e profondamente legata al territorio. Al suo interno, ex calciatori ed ex dirigenti rossoneri che hanno scritto la storia della Lucchese e in qualità di sponsor alcune importanti realtà imprenditoriali legate ai settori dell'edilizia, del cartare e della chimica, realtà produttive di primo piano a livello nazionale ed internazionale. L'obiettivo è quello di dar vita ad un sudalizio ambizioso con una solida base economica e che sotto il profilo sportivo getti le basi per riportare Lucca nel calcio che conta. Un occhio di particolare riguardo verrà destinato al settore giovanile che ritroverà la sua casa abituale nell'acquedotto con la costituzione di quattro formazioni e anche al calcio femminile. Durante l'incontro è stato affrontato anche lo scottante e delicato argomento dello stadio Porta Elisa, attualmente, come sappiamo, in condizioni di degrado. Il sindaco ha assicurato l'impegno dell'amministrazione allo scopo di realizzare un project financing con gli imprenditori interessati alla Lucchese, compatibili con le possibilità offerte dall'attuale programmazione urbanistica. Gli industriali che fanno parte della cordata auspicano che il comune risponda al più presto in maniera positiva. Forse è ancora presto, lo diciamo anche noi, per affermare che la Lucchese uscirà dal tunnel, ma le premesse sembrano perlomeno incoraggianti. Noi aspettiamo con fiducia quanto accadrà nei prossimi giorni.